Speravo che mi comparisse davanti all'improvviso, ma forse era soltanto per la paura d'agire, insomma per regalarmi ancora un po' di tempo che me ne restavo là. Quando sono passato in libreria per chiedere se Paolo ci fosse capitato, ma perché lo cerchi? Ma è così, niente di importante, avevo bisogno di vederlo. Oh, allora sto cesta, laggiù, ma sì, laggiù, in fondo a sinistra. Mezz'ora fa ha detto che faceva un salto in palestra per un servizio sul taekwondo. E che è? E che è? Ammazzano! Ciao Paolo! Ah, ciao! Ciao! Ti ho cercato dappertutto. Sai, ho bisogno di chiederti un favore. Pure tu? Il potere è? Mi!